Ciao amici, ciao amici, un secondino Ok, ciao amici, Twitch, grandissimi, grazie StreamElement, come potete vedere, oggi è il giorno di Pasqua, buona Pasqua a tutti Tra l'altro avevo anche stampato il giorno di Pasqua, aspetta che le vado a prendere amici miei, un secondo Adesso chiaramente che mi servono non le trovo Chiaramente, adesso che mi servono, non ci sono Ciao deciso Ciao amici, mi raccomando, passate in chat, salutatemi, è che vi posso salutare online Ciao deciso, buona Pasqua amico mio Ah ah, grande deciso, grande grazie, grazie Oggi ho mangiato talmente tanto polpettons, polpettone fatte in casa dalla mia mitica mogliettina Che sono veramente, veramente, veramente stanco Mi sembra anche di andare a letto a dormire, sinceramente Ciao deciso, grande amico mio, mitico Ok, facciamo un po' di Ero messo tambette bene ma, certo, certo che mi ricordo deciso Ah ah ah, grandissimo, non solo così conciato male amico mio E adesso, facciamo una bella cosa Ho un po' di milioncini Ho un po' di milioncini da spendere, ok? A te piace qualche macchina deciso? Qualcosa che magari non ho e possiamo andare a comprare? Dai dai, dimmelo, dimmelo Ciao bregali, ciao amore mio Stavo dicendo che oggi hai fatto un polpettone da paura, buonissimo E siamo tutti stanchi, infatti tu amore mio sei A riposarti Ciao, buona Pasqua, buona Pasqua a tutti amici Condividiamo la live Grande, grande amore Ok, McLaren, McLaren Andiamo un po' a vedere Ha deciso Ciao Sol, grandissimo Ciao ragazzi, benvenuti nella vitica live di Pasqua Avevo preparato anche un uovo di Pasqua Incartato e fatto bene ma mi sa che se lo sono magnato Quindi non ce l'abbiamo più Allora, andiamo a vedere la McLaren per amico deciso Il nostro amico che ha detto che gli piace la McLaren come tipologia di automobile Buona Pasqua a tutti ragazzi Buona giornata e passiamo un paio di orette insieme Oh, tanti lingotti Oh Cioè, guardate i lingotti d'oro che c'erano e cosa mi dà a me Non è post... 30.000 Cosa me ne faccio di 30.000? Vabbè, grazie, grazie, gioco perché sono sempre regalati Ho farmato davvero parecchio Infatti se vedete i crediti ragazzi sono veramente tanti E ho comprato ieri, non so se c'eravate La mitica Ferrari 250 GTO che vi faccio vedere oggi Allora, la McLaren, la McLaren L'amico deciso vuole la McLaren Andiamo a vedere la McLaren che gli piace Ok, abbiamo La McLaren P1 GTR 2016 Costa un botto, eh Possiamo comprare questa magari Turbo 1100 cavalli Cosa cambia tra questa e questa? Ah, questa è GR1 e questa no Drums brucia l'asfalto Grande Luigi! Buona Pasqua amico mio, eh Buona Pasqua, oggi bruciamo davvero l'asfalto Ti va di che se compriamo questa GR3 Questa ce l'ho, questa no Eh, questa GR3, ti piace? Deciso? Ciao Luigi, eh, comunque buona Pasqua Buona Pasqua, rimani con me Che andiamo a divertirci adesso subito Io tra procco accendo Elden Ring, grande, grande, psico, grande Elden Ring è forte, eh Elden Ring è forte Io ti dico Luigi, da quando ho preso questo Gran Turismo Buona Pasqua anche a te, buona Pasqua a tutti amici miei Quando ho preso questo Gran Turismo Mi sono innamorato Innamorato ragazzi È veramente, veramente bello Mi rilassa Mi piace Mi piace giocare contro il computer Mi piace giocare con voi online E mi piace anche fare altre cose Oggi voglio fare un po' di... Visto che oggi è relax Ciao amici miei, ciao a tutti amici di Twitch Mi raccomando, buona Pasqua a tutti, eh Mangiate un sacco di roba Grigliate, tanta roba Pastiera Mi raccomando, pasticcini Torte, tiramisù Bevete poco, se dovete guidare Tanto caffè Acqua gasata Cerchiamo di evitare E acqua naturale Tanta acqua naturale, eh Perché noi dobbiamo idratarci per poi andare a correre Allora Stavo parlando con l'amico Deciso Io comprerei questa McLaren qua Tu dimmi se ti piace Ti piace? E la andiamo a provare subito Ragazzi, mi piace? Ma sì, dai, compriamola Che ce frega Una bella McLaren, eh GT3 2015 Vi spiego anche perché sto comprando tante GT3 Amici miei di Tucci Perché Così riusciamo a Riesco ad avere un sacco di macchine Per Poter giocare online Ok? Perché ho visto che la maggior parte di voi amici E dei miei amici Hanno Le GR3 Ok Andiamo a Comprare un po' di cosettine Carine carine Da 500-800 Direi che non è niente male Da corsa Andiamo a comprarci Il Cambius E ci compriamo anche le gommette Perché raga Ci sono tanti soldini Ci sono tanti soldini Cosa di sterzata Dovrebbe contare solo per Ma Va bene Dovremmo anche andare a comprare Tra l'altro Le gomme Da Bagnato Però lì dipende In base alle Esigenze Andiamo A fare Una mitica monza Perché Poi tra l'altro È quella che facciamo Normalmente Quasi sempre Ok? Dai andiamo a correre un po' Andiamo a correre un po' Grande Luigi Grande deciso Grandi ragazzi Mi raccomando Amici miei Se entrate È Grande soul Ciao amici miei Buona Pasqua a tutti Dai Rimaniamo un po' insieme A divertirci A fare 4 4 garette Eccolo Vabbè non c'è problema Ho comprato questa McLaren Dimmi se ti piace Tra l'altro non ho neanche Allora Un po' di audio dovrei averlo Nella mia televisione L'ho abbassato completamente Oh è bella stabile Le marciozze Belle belle toste Ci metto un botto Salire Credo che è anche Bella stabile Però sta macchina Ho visto che anche a frenare Guarda che balordo Che si è messo di lì Per non farmi passare Ma io ti passo lo stesso Ciccio Si è messo Sul lato sinistro Oh Raga McLaren Grande deciso Mi piace Bella stabile Ti piace? Ti piace la macchinina Che ho preso per te? Mi sono partiti 500.000 euro Pozzi Ce l'ho Anch'io è buona Eh si Sol È forte Io devo stare Un pochino Di volume Oh Ok Sul 6 ragazzi Così Oh Devo cambiare marcia Mi è anche venuto addosso Sono tutti con me La usi anche tu Deciso Ah Perfetto Io non ce l'avevo ancora Quindi ti ringrazio Sì sì Viaggia eh Ieri avevo comprato Anche la La Lion Gain Quella della Mercedes Non ce l'avevo ancora Me la sono andata a comprare Che vi vengono addosso Allora Lo sai che non so se ce l'ho l'Alfa 4C Tra l'altro devo andare a comprare anche le Ferrari Magari ci facciamo Una giornata Di Pasqua shopping Eccola qui Eccola qui Questa davanti Mi sono comprato Da Amgain GR3 Fa che vista sulla sinistra Che non posso superarlo Così Io ti supero De esterno De esterno invariante Ti supero Tu che ti tampolo Ehi Ehi Cacchio Lasciami passare Oh grande deciso Grazie mille Grazie mille Ieri ero talmente stanco Che ho attaccato tipo alle 2 Per farmare E non sono neanche andato a controllare Vabbè controllare Parolone Sono neanche andato a vedere Come funziona bene Il mio canalino Youtube Grazie Grazie deciso Mitico Ragazzi Se volete anche seguirmi Oltre le mega live Su Twitch Il mio canale Youtube È sempre Marco Drampiz Come ha fatto il mio amico deciso Che è andato A iscriversi ieri Abbiamo ancora un giro Per prenderli Diciamo che ho fatto Un po' un casino all'inizio 1.53 Dai Si vola Si vola Si vola Con questa McLaren Grazie deciso Che me l'hai fatta prendere Anche la mitico Soul Ce l'ha Che sa benissimo Che È bella stabilozza Sta macchinina Ieri stavo giocando Con il nostro amico Toretto E lui aveva la Beetle E viaggiava Di brutto Vorrei Provarla Sinceramente Infatti per quello che Sto cercando di comprare Le GR3 Perché poi ho visto che Quando andiamo online Ci divertiamo E ci hanno Quasi tutti La GR3 Ciao amici di Twitch Benvenuti Buona Pasqua Ragazzi Ragazze Eh Eh si I problemi Sono proprio i settaggi Ragazzi È perché Tanti miei amici Si sbattono a farli E non me li passano Quindi quando io li trovo O online O qualche amico Che me lo passa Io faccio il video Volentieri su Youtube E vi faccio vedere Il settaggio Tranquillamente Senza problemi Il problema È proprio Trovarli Allora Ho fatto un po' Un casino Nella prima parte Di gara E quindi Non sono riuscito A dargli via No no La La rifacciamo Ragazzi La rifacciamo Perché questa qua Sinceramente Credo di poter arrivare Primo Che compensa 4000 Praticamente Non ci ho pagato Neanche Neanche le gomme Aspetta Aspetta Rifamola 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 Riprova Riprova Perché Mi sono Incartellato All'inizio Sinceramente Mi piace Mi piace Mi piace Questa Comprata Voglio andare A comprare Anche la Beetle Eh raga Ok Madonna Quando non Fredano Quando Si inchiodano In quella Curva Qui Nella prima Variante Allora Io mi sono Abituato A guidar Da dentro Ragazzi Non ho più Proprio Concezione Com'è Da guidar Da fuori Poi Ahia Scusa Scusa No Ah No 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 Scusa Raga Qui ho fatto Un disastro Ho fatto Un disastro Scusatevi Rifamola Rifamola Non si può Fare così A parte la Cognizione Che non Ce l'ho più Di Eh Come si dice Di guidar Da fuori Ho imparato A usare Le macce Eh Cosa che Prima Usavo Solo Solo Esclusivamente Cambio Manuale Vediamo Se riusciamo A rifarla Un po' Meglio Sta Curva Dai GT Ma Pensa Questa Poi Allora Come spunto Non ha Molto Sta Macchina Non ha Molto Spunto Devo Dir La Verità Però Tiene 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 Un botto Passo Interno Meno uno L'ho passato Se no Non arriviamo Più Cioè Devi venirmi Per scassarmi Punto Non ne ha Tantissimo Dov'essere Sincero Magari Bisogna Settarla Un po' Però Viaggia Non so Se si Viene A lavorare Un po' Con le Marce O Con Che Cosa Perché A livello Proprio Di Comprare Roba Come L'abbiamo Comprata Tutta Quindi Così Non c'è Niente Comunque Col fattore Che si parte Sempre Quasi Ultimi Non Sono tutte Gare In salita Perché Prendiamo Un po' La scia Passare D'esterno Non è Proprio Il Massimo Che Mi Si Butta Dentro Oh Cavron Ora Che Peggio Tra Cosa Succede Non Sono Più Capace Di Andare Non Ci Credo Dice Mosgo No Stavolta Guarda Che Bordello Ma Cosa Sta Succedendo Guarda Qui Incredibile Questo Mi Sta Spingendo Bello Ma No Dai Ultimus Prime Ma Perché Non Ce La Faccio Ma Ditevi Voi Se A Pasqua Uno Deve Diventare Armato Con Una McLaren Che La Primo Giro Sono Arrivato Terzo E La Seconda Gara E La Terza Gara Non Riesco A Finirla Bah Scrivetelo Nei Commenti Oh E Qua Dobbiamo Far Così Raga Perché Da un po' Sul cordolo Che Tra l'altro Non so Se è Regolare Secondo Puoi Regolare Sul cordolo Così Beh Questo Non sono Da Tosso Nessuno Questa È Stata Regolare Guardalo Guarda Lambo Tranquillo Tranquilli Perché Sono Tutti A Riposarsi E Io Sono A Correre A Correre Insieme A voi Ho Ritardato Un po' Oggi Iniziare La live Che Nei Social L'ho Messo Alle Tre Perché Stavo Facendo Il video Di Tokyo Expressway Quindi Se vi Può Interessare Ciao Amici Di Twitch Buona Pasqua A tutti Ragazzi Se vi Può Interessare Ho Fatto Il video Come Settare Le marce Per La Macchina La Dodge La X Per Tokyo Expressway Per fare Un po' Di soldi Se volete Farmare E poi Tra l'altro Se me lo Chiedete La facciamo Insieme Vi Faccio Vedere Anche In live Come Come Settare La La Macchina Ma Senza Il video Delle marce Il video Delle marce Dovete Andare Sul mio Canale Youtube Per Vedere Ok Sto Usando La Mclaren Che Mi Ha Consigliato L'amico E Ancora In live Amico Ok Dai che Non voglio Far Brutta Figura Mi Consigliato La Macchina Ciao Amici Twitch Benvenuti Ragazzi Passiamo Una Domenica Di Pasqua Insieme Un po' Particolare Sulle Sulle Curve Allora Soul Stavo Parlando Di Io ragazzi Mi Deci Deciso Deciso L'amico Deciso Io non mi ricordo I nomi Ragazzi Scusatemi Ma Infatti Il grandissimo Deciso Che l'ha fatto Appena entrato In live Solo Appena entrato In live Deciso Mi fa Ti ricordi di me Perché Ormai L'ha già capito Che non mi ricordo Ma non lo faccio Per male Ragazzi Davvero C'ho una memoria Di quella lì Come ci chiamo A quella a breve termine Ormai Si è fulminata Eppure Ne bevo Ne faccio niente Non fumo niente Saranno i cioccolativi Cioccolato si Lo mangio parecchio E anche le bevande Zuccherose Bollicinose Quindi saranno quelle Che mi stanno mandando Il cervello in pappa Ciao amici di Twitch Mi raccomando Mentre mangiate La vostra pastiera Il vostro tiramisù Avete appena finito La vostra grigliatozza Di Pasqua Venite da Marco Drums Games Ci divertiamo insieme Devo andare a prendere I primi due E siamo all'ultimo giro Prima è successa Un po' la stessa cosa E non sono riuscito A andare a prenderli 150 metri Si frena Raga Ok Un po' di cordolo Perché il cordolo Fa sempre bene No 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 Troppo cordolo Non fa bene Allora Questa macchina È bella Torsterella È bella Settata Si impianta bene Sul terreno E Mi piace Mi piace Non ha molto Spunto motore Nel senso E di qua Dai che devo prenderli Però Dai Marco Su Dai gas Dai gas Diamo gas Amici Siamo con la McLaren Siamo a Monza Un po' di cordolino Non so se riesco ad andare a prenderli Raga Non so se i due riesco ad andare a prenderli È come la gara di prima È come la gara di prima No Non riesco a prenderli Identica gara di prima Amici Identica gara di prima Andiamo a vederci il replay Identica Identica Cosa me ne faccio di 4.000 Condivido la live ragazzi Identica live di prima Identica live di prima Identica live di prima Identica live di prima Andiamo a condividere la live Andiamo un attimo Perché qua A parte la parte iniziale Devo andare a capire Dove ho sbagliato Perché Allora Per viaggiare Viaggia la McLaren Non ce n'è Gli storie Qui L'ho sverniciato Sul Sulla parte interna Bellissima Faccia bellissima È stato un punto Guarda il Lambo E il Ford Vanno tutti sull'erba Vanno tutti a tagliare l'erba Il Lambo Eh ma è toccato dentro lui però Sinceramente Perché Se vogliamo proprio essere Precisi Ciao amici di Twitch Buona Pasqua a tutti ragazzi Sto condividendo la live Stiamo vedendo il replay Che Sinceramente Tutte le volte Che faccio una gara Mi guardo il replay Perché è talmente bello Amici miei Che è Veramente Veramente Una figata Non riesco a capire Se è la velocità di punta O se ho sbagliato qualcosa Bella e bella Un attimo la parabolica Io in questa pista Ci sono andato 5 anni di fila Ho visto sia la Superbike Che la mitica Formula 1 Una gara di Formula 1 Sono stata Un figata Quando fuori i motori Stridivano E spaccavano le orecchie Ok Condiviso Condiviso Tutto Vai Vai Condividiamo E forse Forse qua Forse qua Oh che bel cerchio Che bel disco Freno Incandescente Proprio Un bel dischetto Freno Incandescente Ragazzi Wow Wow Vabbè tanto alla fine della gara Sappiamo Che sono arrivato terzo Bella Mi piace questa GT3 Allora io volevo fare una cosa Andiamo a vedere Allora Prima di tutto Andiamo a vedere Che cosa vendono Perché Quando si hanno un po' di soldini Che ho farmato Stanotte Stamattina Per quello che ho anche ritardato Ragazzi Entrano in live oggi Sono alle 3 euro Puntuale Ma stavo farmando Un po' di soldini Allora Qui le abbiamo Comprate tutte No Non c'è più niente Quantità limitata Tra un po' La R8 La cambieranno La Nissan La 512 Ferrari L'ho comprata La NSX 430.000 Ragazzi Per farvi capire Quanto è rara Questa NSX Ma io Le altre Le vedo Tutte Tutte Comprate Vedete Il simbolino Del libro Azzurro Blu E da lì Che capiamo Che le abbiamo Comprate Andiamo a vedere Un attimo Le leggendari Se hanno messo qualcosa Ma non credo Perché a Pasqua Non credo Che abbiano messo qualcosa Allora Abbiamo comprato La Toyota La Jaguar Questa è dalle manna La Mazda La 250 Avete capito bene Amici miei L'ho comprata L'ho comprata Ieri Questa macchina Speciale Fighissima 250 GTO Marco Drums Ce l'ha Andiamo a farci Anche una corsettina Questa qua Tra un po' La cambieranno Ho comprato L'AR8 Gordini E anche La Nissan La MG Della Mercedes Degli anni 71 La 92 E la 91 Della Mazda E della Nissan Che hanno fatto Il Questa era Della 88 Poi 91 92 Che hanno fatto La Le Mans Se vedete bene Auto da corsa Le Mans Motore centrale Scritto di fianco Sulla sinistra In basso Vabbè Magari non lo vedete Però Ci ha scritto Volevo Andare a comprare Una macchina Dai Andiamo a comprare Una macchina Perché poi Lo scopo del gioco E si fare le gare Si fare anche le gare Magari Da altre parti Ma Allora Aston Martin Aston Martin Vediamo un attimo Vediamo un attimo Che poi Tra l'altro Io voglio comprare Queste macchine Qui Che sono quelle Che bella La Vision GT1 La GT3 Ce l'ho Non ce l'ho La GT3 Potremmo comprare Anche Questa Azzurra o verde Ma questa verde Mi piace Dai Compriamola Allora Il problema Non è solo Comprare l'automobile Ma anche Dargli un po' Di settaggio La Sto Martin Io ragazzi Non ce l'avevo Sinceramente Andiamo a dargli Un po' Di Li compriamo Magari Le gomettine Li compriamo Qualcosina Di carino Limitatore potenza E la Zavorra Sono due Spese Che gli faccio Sempre Bene Sta macchina Ha praticamente Tutto Vabbè Rapporto Marce Personalizzabile Se non E anche le gomme Carbo ceramico Se possiamo andare A provarla così Andiamo a Monza Andiamo a provarla a Monza Vediamo un attimo Subito la differenza Amici miei Se c'è una differenza Tra la McLaren E quest'Aston Martin Facciamo paro paro Voglio vedere Se quest'Aston Martin Viaggia di più Ciao amici Benvenuti Benvenuti E buona Pasqua A tutti ragazzi Buona Megapasco A tutti Qua stanno tutti Dormendo In casa mia Perché di solito C'è un sacco di Anche i cani Che dormendo Come urla Come urla E poi la Ston Martin No Sei serio Gioco E' un po' così Che motore monta La Ston Martin Oh Girano Dai E' una gara in salita Deciò Margon Vediamo Che mi hanno fatto girare Oh Sono andato a sbattere Io sinceramente Potrebbe anche essere Allora E' molto più stabile La McLaren Eh Sì Sì La Ston Martin Fa un po' la cattivella Ciao amici Twitch Benvenuti ragazzi Buona Pasqua A tutti Non riesce a buttare giù Non riesce a buttare giù La potenza sull'asfalto Eh Faccio davvero fatica ragazzi Certo che poi I botte Va 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 come si Allora la McLaren Era Molto molto meglio Rispetto a A questa A sto Martin A livello proprio di 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 tenuta strada Vorrei sapere Che motore monta La Ston Martin Voi ragazzi Sapete che motore monta Jaguar XF Type Dai mi han fatto girare Ma sei serio Oh ragazzi Non ce la facciamo Sta gara Non ce la facciamo Proprio Sta macchina È un po' come la Lambo È capricciosa Bisogna metterla a posto Egio VGT IR3 Quella Quella non l'ho comprata Mi piacerebbe comprarla Eh, guarda che roba, dai! La Volkswagen volevo andare a comprare adesso. Andiamo a comprare la mia Beetle? Eh, scusa dai, qui dove è allucinato i traiettori? C'ha anche ragione, eh? Eccola qua, questa McLaren qui avevo comprato prima. Dai, ci impunta addirittura questa macchina. Madonna, che cordolata che ho preso! Sì, ti ho passato l'erba! Ha, ha, ha! La Hyundai l'avevo comprata poi alla fine. Mi piaceva? Ma dove sta? Ma dove sta? Ma ma dai Hyundai! Non ci sta nessuno nell'angolino lì! L'hai fatto apposta per non farmi passare! Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Mega live di Pasqua, eh! Non riesco a buttare giù la potenza, ragazzi! Non riesco a buttare giù la potenza, ragazzi! per non farmi passare! Nissan! Eh, dai! Sì, io ero un po' anche nella tua traiettoria. Caspiterina, mi posso dire che non è che mi esalta più di tanto. Non mi esalta tantissimo spray. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Andiamo a vedere un po' di replay perché... Voglio andare a comprare la New Beetle. Andiamo un attimino di replay con questa... Eh, è successo un po' un... Un disastro, devo essere sincero, eh! Un bel casino è successo! Mangiamo una mandorlina, ragazzi, eh! Già che siamo in periodo di Pasqua... C'è periodo di Pasqua, oggi è Pasqua! Eccomi là nell'angolo! Che poi mi ha ributtato dentro, mi ha ributtato dentro e mezzo! Bella e bella, mi piace con il mento, eh! A livello colore macchina... Però non riuscivo a dare potenza massima. Se dai potenza... Vedi, vedi, vedi! Come dico io, a sbiforare! A sbiforare! Eh, qua, qua, qua! Mh, 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 te! È così! Questa l'avevo fatta ben lino, eh! Qui pensavo anche di andare... Oh! Luce è sbiporata un po' Mi è andata un po' Di drifting Allora andiamo a comprare Bella, bella Comunque questa pista ragazzi Molta fantastica Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Buona Pasqua Buona Pasqua a tutti Se faccio così la manina La vedete, si Buona Pasqua a tutti Allora abbiamo fatto Monza Con tutte e due le macchinette Andiamo a vedere la Beetle Che correva l'amico ieri Toretto con la Beetle Andiamo a vedere la Porsche Ciao amici di Twitch Allora Anche questa dovrei comprare Questa ce l'ho Anche la Vision Niente male Eh la Porsche Non l'avevo comprata Il 911 Però non è il GT3 C'è questa Non lo so Vabbè Lasciamo stare la Porsche Eh la Porsche L'abbiamo comprata Scusate raga Vi ricordate voi? Non me lo ricordo più Allora forse siamo a posto Come invito Sì Ok Ferrari Andiamo a comprare la Ferrari Allora Ce l'ho La F430 06 458 Italia 09 Questa non ce l'ho Ce la compriamo Allora io le Ferrari Le ho tutte rosse Perché io credo Da amante della Ferrari Il colore è rosso Non si può comprare una Ferrari In altro colore Però La Ferrari Originalmente era anche gialla È nata gialla come colore Passato a rosso per le gare Quindi una Ferrari gialla La voglio comprare Dai F8 Tributo 2019 Bella 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 Mi piace Andiamo Grande Enzo Andiamo a spendere altri Ho 7 milioni oggi Dai raga Europa Monza Questa Ferrari Non ce l'ho Per Gacome E non ce l'ho Praticamente attaccato nulla Vediamo un attimo Ma che macchine mi hanno messo contro E' una bella bestiolina Sei serio Guarda Guarda Dovrei scontenerla Di potenza Ciao amici di Twitch Mio Dio ragazzi E' un disastro Buona Pasqua a tutti ragazzi Buona Domenica E buona Pasqua In compagnia del vostro Marco Drums Allora Sto andando a comprare un po' di macchine Ma questa F8 Tributo A parte che ho le gomme da concessionario Bisogna stare un po' Un po' tranquilli Però credevo Che si comportasse in maniera diversa Che vuoi vedere da fuori Spettacolo eh Adesso che freno Si apre Si Oh Mamma mia Ma quando devo frenare Forse perché stavo correndo con le GT3 prima Che si frena bella 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 tosta eh Anche Anche Di sesta Andava Eh Guarda Oh Siamo Quando devo frenare Amica mia Va 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 Devo graduare la potenza Solo col dritto si riesce a darla Andiamo a frenare qua che è Guarda là Dai Solo di potenza Ma non ti devi girare Ma sei seria Ma è una curvettina normale Questa qui Senza le gomme Senza niente Amici miei E' un bordello Ci sono in pratica gomme da concessionario Adesso ci andiamo a comprare Una GT3 Perché No andiamo a comprare un'altra Ferrari Poi devo farmare 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 ancora Ma qui non mi ricordo mai E niente Quando ti parte la testa a coda Questa Ferrarina ti parte E punto e basta Bella Bella lì Quando si parte la testa a coda Questo ferrarino qua E' così Vediamo un attimo Già adesso devo frenare Vediamo Ma è talmente bella Che gli perdono tutto Anche perché In teoria L'errore è stato mio L'errore è stato mio Madonna Quattromila e nove Spena ha preso 50 mila Andiamo un attimo Vedere il replay Ragazzi Allora come mezzo F8 Tributo Fantastica Ciao amici Buona Pasqua Buona domenica Buona domenica a tutti Ragazzi Ciao Sharder Grande Sharder Amico Ragazzi Scrivete nella chat Così vi posso salutare online Guarda Sharder Ho comprato questa Ho comprato questa Sharder Oh Di potenza Tra le gomme da concessionario Sharder Ho comprato la McLaren GT3 GR3 Non è niente male Tiene di brutto la strada E poi ho comprato anche la Jaguar Non mi piace Sono mandorle ragazzi Guarda qui Guarda qui Ma che meraviglia sto Ferrari Mi piace tantissimo Indomabile Veramente bella Poi ero indeciso di comprare la rossa Ma visto che ce l'ho tutte rosse E la Ferrari era Comunque anche gialla Una almeno L'ho voluta comprare E gialla Ecco Bella anche gialla però E qui Qui praticamente Non ce n'avano nulla Amico Voglio andare a comprare la Beetle Voglio vedere Assolutamente si Fammi fare quattro cose però Devo comprare delle macchine Allora Aston Martin Ragazzi Ragazzi tutte le volte dentro dentro Perché non me lo ricordo se le ho comprate Allora Manca questa Voglio comprare Sharder Tutte quelle con i biglietti Vedi Tipo questa da 3 milioni Però Visto che scade al 5 maggio Non è che voglio proprio comprare solo quelle Io il Porsche Tra l'altro Volevo comprare questa Questa la volevo proprio comprare Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi E volevo comprare anche questa Tu cosa ne pensi Di questo porsettino Eh 911 RSR Però non c'è scritto che è GR3 Non lo so Mi piace un botto Ragazzi Scrivetemi nei commenti Prima di tutto Chi siete Così vi posso salutare in live E poi Se vi piace L'Aston Martin Solo una non ti piace Allora guarda L'Aston Martin Non ho comprato questa Guarda Questa Questa qua No Questa qua La GR3 Non Non mi esalta tantissimo Poi ho comprato la McLaren Questa qua Mi piace Mi piace Dopo c'è questa Che è molto bella La volevo comprare E la Vision Ah Quel Porsche là Davvero Ma può andare bene Con le GR3 La prendiamola di questo colore E andiamo a provarla Dai amici Ho comprato la 911 RSR991 Del 2017 Ok Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Buona Pasqua a tutti Scrivetemi nella chat Così vi saluto online E mi raccomando Di iscrivervi al canale Grandissimi Ah ok 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 Posso usarla Come GR3 Vediamo un attimo Come si comporta Normalmente Quella di prima Addirittura Non ho dovuto Comprare Assolutamente niente Vabbè Limitatore di potenza Quelle cose Ci può anche stare Se non vado a elaborarle Io il rapporto marce Non è che sto proprio lì A comprarle già adesso Anche come Tipologia di Gomme dure Ci può stare Dopo se Se giochiamo online Magari Allora a un certo punto Qualcosina cambia Capito? Allora visto che le altre le ho fatte A difficile Con l'Aston Martin Sono arrivato terzo Con la No Con l'Aston Martin Sesto Sette Non mi sembra Con la Con la McLaren Terzo Vediamo Come Come si comporta Questa Porsche Mi sia Mi sia Vi Con l'Aston Martin Con l'Aston Martin Mi ai ci si Quando Mi ai E' notato Sharder che ho imparato a guidare con le marce grazie a voi? Questa qui? Dai 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 che corriamo con questa dopo! Adesso compro anch'io un po' di macchine così poi riusciamo a entrare magari a Monza o in una pista e possiamo fare diverse gare capito senza entrare e uscire da rifare la lobby che è una rottura. Caspita! Caspita! Come l'ho cannata o come mi è data via nella scari raga! Eh! Ma Sharder si può fare l'online anche con gli altri? Con io e te e il computer anche che così le gare diventano un po' più interessanti? C'è questa funzione? Oh! Ma dai ma si è spostato stronzo Loide! Ma l'hai visto che roba? Porca misera per non farmi passare! Come i giocatori dell'online oh! Ah caspita! Vabbè quando crei la lobby prova a guardare! Adesso aspetta un attimino che compro altre macchine! se vuoi comprarla anche tu! Va 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 va! Possiamo provarla anche su Trail Mountain questa qui eh! O Monza come vuoi tu! Solo che Monza l'ho fatta già per un po' forse gli amici di Twitch vogliono vedere anche un'altra pista eh! Facciamo Trail Mountain insieme! ту Ciao amici di Twitch. Ho fatto solo un passo Grandi buona Pasqua a tutti e buona domenica, no mi devo fare un'idea per la livrea, eh si, eh si, oh amico mio Shard se riesci a farmi quella roba la dell'svg guarda ti ringrazio tantissimo, se riesci ad avere un attimo il tempo di vedere se riesci a convertirmi il file in svg poi o me lo mandi o puoi fare la livrea tu Marco Dranz Games e poi la condividi e me la scarico, se puoi farlo davvero ti ringrazio, perché io ho il file svg non riesco a tirarlo giù. Oggi ho fatto dei video e delle nuove motte ragazzi per chi è abbonato al mio canale, se vi piacciono le mie live iscrivetevi al canale ragazzi e se vi avanza un bel abbonamentino, grazie 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 a tutti, eh, così riesco a realizzare i miei progetti di fare le magliette, ciao amici di Twitch benvenuti raga Grande! Oh, per leggere il tuo messaggio sono andato a sbattere, vabbè, ci sta Grande Shard Vorrei proprio importare il mio logo Nelle livree, sarebbe veramente una cosa fighissima Anche sul casco e sulla tuta Così quando la facciamo e giochiamo insieme Mettiamo tutti la livrea Marco Dranz Games Ciao amici di Twitch Eh, che sta macchina qua è Terribilina, eh È una Porsche ragazzi, guarda, ve la faccio vedere da fuori Allora, la migliore È stata, fino adesso, è stata l'Aston Martin, eh Devo dire la verità Andiamo a prendere la new beetle, fate che vi faccio vedere un pezzettino di replay Buona Pasqua a tutti, iscrivetevi in chat così vi saluto ragazzi Benvenuti, buona Pasqua Perciò creare un draghetto Sì Sì, ciao Beh, prova a vedere se riesce a portare il proprio quello lì in SVG Perché se ha illustrato un programma serio si dovrebbe fare Ciao amici di Twitch Ho preso la Porsche E devo dire che non è niente male, eh La stanza la tiene Andiamo a vedere anche da dentro, eh Ciao amici di Twitch Benvenuti, buona Pasqua a tutti amici Grandissimi Oh, sono uscito amici Grazie mamma, un buon caffèrino Dai ragazzi, anche voi, fatevi un bel caffè, un bel caffèrino E un po' di colomba Yes Grazie mamma, grazie Allora, andiamo a comprare Ciao amici di Twitch Buona Pasqua a tutti E buona domenica Allora, andiamo a comprare la New Beetle O come si chiama Perché Questa Porsche Sì ragazzi, è vero che ho sbagliato Ma Non mi ci trovo Dovrei fare tanti giri Ok, Europa Volkswagen La Scirocco GR4 Forse è questa, eh Allora Bella anche questa Golf, eh Secondo me Allora, compriamo questa prima di tutto Azzurra, tra l'altro Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Alla Mega Live di Pasqua Buona, tanti auguri a tutti voi Buona Pasqua E sto cercando delle auto Per Per fare legale online Qualcosa che Tenga proprio bene la strada Adesso vediamo la Beetle Col turbo Compressorino Gli altri, eh Perché a volte Sì, ok Butto su Di potenza Sì Con la Porsche Di prima No, non è male Sinceramente Tiene Tiene parecchio la strada Rispetto alle Porsche Normali Che le Porsche Di solito C'è anche da dire la verità Che non gli ho comprato Le gomme morbide Quindi un po' Mh, magari è quello Vediamo la Beetle Magari gli vado a comprare Le gomme morbide E dopo quando giochiamo insieme Io e te Le provo con Con le morbide Facciamo la stessa prova Come ho provato La Stone Martin Oggi ho comprato 4 macchine 4 GR3 Da 7 milioni e 7 Siamo a 5 e 6 Quindi Forte la Beetle qua Allora, frenare Frena di brutto Mi piace Con 3 km Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Iscrivetevi in chat Così vi saluto E iscrivetevi al mio canale Amici miei Buona Pasqua a tutti Niente male Questa Vision Ah no Questa non è la Vision Questa era la Beetle Oh 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 Shard Mi piace di brutto Questa macchina Chard Mi piace di brutto Sta Beetle Dai Dai Peugeot Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Buona domenica E buona Pasqua a tutti Stiamo correndo Con la Beetle Sto provando A trovare Una GR3 Che mi trovo bene Per andare a correre Con i ragazzi online Bella stabile Bella stabile Shard Sai cosa voglio comprare Anche l'altra Anche l'altra Volkswagen Voglio provarle Anche quando prendo il cordolo Riesco a dare potenza Invece la Porsche Mi scivola via Nella F1 davanti Ce la stiamo giocando Di potenza Amico mio però Lo sapevo Lo sapevo Amici miei Che mi buttava di là Sto balordo Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi E le gare purtroppo sono così Bella stabile Anche quando Si prende il cordolo Conta Shard Che Ciao Soul Allora Ho comprato questa Beetle E ti dico la verità Che è fantastica Riesco a prendere il cordolo Mentre con l'Aston Martin Sono arrivato a terzo Mi trovavo bene Ma secondo me Aveva una coppia bassa Non so spiegartelo Con Invece la Porsche Non mi sono trovato Nel senso si Viaggia però Mi va via Non riesco Ad andare su cordolo Venimi addosso Dai Vabbè dai Era vinta sta gara I bot sono incredibili Bellissima Sta Beetle Aspetta no Voglio farvi vedere Che non è stata colpa mia Che mi sono venuti a sbattermi Intanto mi mangio Un po' di colombetta Ragazzi Mi raccomando Buona Pasqua a tutti Vi voglio far vedere L'ultimo giro Raga Perché va bene Pizza e fichi Ma qua Aspetta che vi faccio venire Un po' di epilessia Scusate Ok Andiamo con l'ultimo giro Buona Colomba Buona Pasqua a tutti E' qua Qua è già stato un po' Bello Bello anche Proprio come è fatta Grazie mamma Buona Pasqua a tutti Buona Pasqua Qua al limite Qua ho fatto un mezzo capolavoro Ma tiene veramente bene ragazzi Sta macchina Voi piace il gran turismo ragazzi? E ragazzi amiche mie? E' bella Secondo me è stabile Perché è piccolina E' fatta come un ovetto Per quello è stabile Sta macchina Veramente fatta bene Ciao amici di Twitch Scusate sto mangiando Un po' di colomba Buona Pasqua a tutti Guardate il replay Dell'ultimo giro Guardate quello Balordo Che macchina è? BMW Guarda Guarda Dai Ma non è valido Mi l'ho buttato fuori E non l'ha preso penalità Vabbè Secondo me Questa Beetle Assettata Top Cosa dici Sharder? Anche secondo te Sol Com'è questa macchina qua Assettata bene? Secondo me spacca Deciso? Ci sei ancora? Amico Ciao amici di Twitch Allora ho comprato La Beetle Eh? La Beetle La Beetle Adesso io volevo Non so se è una stupidata O no Ma volevo comprare Anche questa GR3 Vision Giusto per Vedere La differenza Tra quella GR3 E questa qui Decapotabile Ma è decapotabile Sta macchina Mi si vede il casco Però dai Marco Drums Non me l'aspettavo Che era decapotabile C'è fuori il casco Poi mi spettino Devo prendere Spettine E' bella ma non hai mai Garreggiato Vediamo Proviamo subito Allora fino adesso Tra tutte le macchine Che ho comprato La migliore La migliore è stata la Beetle Punto Lascia stare che mi è venuto Adesso il tipo E ho sorpassato Magari Un po' ingenuamente Sulla sinistra Sapendo che loro Dice benvenuti Benvenuti ragazzi Sto andando Con questa bella Spider Beh per tenere Volkswagen Raga Per tenere Tiene Vediamo un attimo Come si comporta Nelle curve Tiene 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 Uh Shard Oh che mezzo Ho trovato Ciao amici Di Twitch Benvenuti ragazzi Buona Pasqua A tutti A tutti A tutti Eh ragazzi In compagnia Del vostro Amico Marco Gran Punismo 7 Pichissimo E le GR3 Che sto provando Qui c'è una bagara Incredibile Davanti Basta che non fate Come prima Che mi venite addosso Raga Amici piloti Ma sono proprio Stronzi Eh Niente male Neanche questa Vision Eh Che poi tra l'altro Sbaglio Non sono neanche andato A cambiare le gomme A comprare la roba No forse sono andato Non me lo ricordo più Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Mega live di Pasqua Spero sia andata bene La vostra grigliata O la vostra mangiata Oggi abbiamo fatto Il La mia bellissima moglie Ha fatto Carla Che tra l'altro Corre Oggi è qui E stanca È andata a riposarsi Ma credo che stasera c'è Corre anche lei Con la sua Ferrarina Rosa Sto comprando GR3 Oggi ragazzi Perché Voglio trovare un'auto Bella da competizione Quando vado online E poi tra l'altro Ragazzi Io ieri ho comprato La Ferrari da 20 milioni Se volete Rimanere un attimo Se me la chiedete Ve la faccio vedere Ho farmato Come un matto Fino alle 2 di notte E Fino alle 3 rotti Ci sono i video Sul mio canale YouTube Adesso poi monterò Appena finisco questa live Anche il secondo Di Tokyo Expressway Che vi faccio vedere Come mettere le marce Quindi se volete Seguite Marco Drums Games Qua su Twitch Innanzitutto Perché Ragazzi Almeno ci facciamo Delle live fichissime Vi ringrazio E se volete seguirmi Anche su YouTube Dove faccio i video Fighissimi Di trofei Settaggi delle auto E modi per farmare Soldini In maniera semplice Indolore In più tanti altri giochi Che non porto su Twitch Tutti i Day 1 Edition Horizon Forbidden West Elden Ring Cyberpunk Lego Ultimo Lego Sito venne al discorso Tina Tina's Wonderland Tutti eh Tutti 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 Allora Fino adesso Diciamo che la miglior macchina Era la Beetle Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Buona Pasqua a tutti Anche la terza è proprio Allora Diciamo che La miglior prestazione L'ho avuta con la Beetle Però non è niente Niente male Neanche questa qua Secondo me Ok grande Shader Ok grande Shader Volevo andare Cosa mi consigli ancora come GR3 Shader da comprare Per vedere se c'è qualcosa ancora Fino adesso la Beetle Ti dico la verità È la mia top Cosa ci può essere ancora come GR3 Interessanti Così provo a comprarla E vediamo Quando facciamo l'online Non è male Non è male Non è male Snapchat Non lo uso mai Ma chi è che mi scrive su Snapchat Allora vediamo un attimo Decapotabile Volkswagen GT Sto correndo con la Volkswagen GT Buon caffè a tutti Buona Pasqua E buon pomeriggio Buona domenica pomeriggio Siamo un po' insieme Con Gran Turismo Adesso andiamo a fare un po' di online Col mitico Shader Se volete giocare con noi Scrivete Abbonatevi al canale E Abbonatevi Scrivetevi al canale Beh se volete darmi l'abbonamento Grazie Grazie a tutti E ci scambiamo un link Così possiamo giocare online Amici miei Soul Deciso Tutti anche se volete Il tappetino Se c'è Ciao mitici Allora Vediamo un secondo solo Che poi vado A fare qualche garetta online Con l'amico Shader Che auto ci può essere Beh io Innanzitutto Volevo farvi vedere questo Visto che siete qua oggi Ragazzi Che siete in tanti Meclane È già preso Non è male Sì 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 È vero Hai ragione Però secondo me La Beetle mi trovo meglio Ti dico la verità Allora io voglio farvi vedere questo Ragazzi Scusa Shader Ma devo farla vedere ai miei amici Perché questa macchina qua È spettacolare 250 GTO del 62 Amici 20 milioni Per comprare questa macchina 20 milioni Però non ci ho speso niente Quindi Praticamente La facciamo A facile Perché se no Non ci ho speso Una lira È da concessionario Ritirata dal concessionario E portata a casa Guardate Che capolavoro Dici miei Adesso mi devo abituare Che con le GT3 Freno all'ultimo Ma che bordello Ma che bordello Mi sono venuti addosso Ragazzi Ma state andando Addosso a una macchina Da 20 milioni State calmi Questa Toyota FT1 Non è niente male Allora qui stiamo correndo Con la storia Dici miei Guardate che mezzo Sì ma la storia Sì ma la storia non frena La storia frena poco Non c'è mica i carboceramici Non c'è mica i carboceramici la storia Madonna quanto bisogna frenare Amici miei E' abituato alle GR3 Prima Stiamo correndo con una macchina Da 20 milioni Di crediti Amici miei Comprata ieri Ho fatto anche un video Su Youtube Che ho comprato Sto macchina Perché sinceramente 20 milioni E' un bel spender Che salterello Lascari Ciao amici Della Scari Ciao 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 ragazzi Ciao amici Twitch Benvenuti ragazzi Buona Pasqua A tutti In compagnia del vostro Marco Drums Games Channel E' questa Ferrarina La 250 GTO Amici miei Da 20 milioni Da 20 milioni Dai che diamo Paga la Peugeot L300 RVGT Questa macchina Va solo in quinta Ciao amici Twitch Benvenuti ragazzi Grandissimi Che bello stare insieme a voi A sabato La domenica Per me sembra sabato No 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 Qui mi ha toccato dentro Quello stronzo Lloyd Ma avete visto raga Ma come si fa a toccare dentro Una macchina da 20 milioni Quello è un pazzo Quello del Peugeot È un pazzo Ma mai toccato dentro Una macchina da 20 milioni Che solo se Mi tocchi dentro Un panale Sei rovinato Per tutta la tua vita Per tutta la tua vita Dai che andiamo a prenderlo Dai che andiamo a prenderlo Devo frenare però Dai che ti prendo Peugeot Magari è elettrico sto robo Pam Così impari A buttarmi fuori Cattivo In realtà raga Perché non freddava niente La macchina Non volevo buttarlo fuori Adesso andiamo a giocare Un po' a Dragon Trail Con voi amici di Twitch Se volete giocare con me Adesso Se avete tempo Un altro giorno Iscrivetevi al mio canale Twitch E poi ci scambiamo L'ID della Play Ok raga Così facciamo Delle belle giocate insieme Se no vi Rimanete In live con me Scrivete Se volete Chiedere qualche consiglio Qualche cosa Solo anche salutarvi Così vi saluto in live Amici miei Anche solo un ciao Un buona Pasqua Quello che volete Ok raga Così a meno Facciamo una bella giornata Insieme anche a chiacchierare Non solo a giocare Che comunque questo gioco Ragazzi amici miei È figlissimo Ciao amici di Twitch Buona Pasqua a tutti E vi faccio vedere Il replay Di questa Ferrari Ragazzi Che costa Mi è costata 20 million dollars 20 milioni di euro 20 milioni di pound 20 milioni di yen 20 milioni di rubri Un botto ragazzi È 20 milioni di crediti Wow Wow Che capolavoro Questa Questa Toyota Mi piace un botto Questa Toyota Quella Toyota lì Mi piace un botto Guarda 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 che bordello Guarda che bordello Ma qui ci sono Incasinati loro Va 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 Guarda che la manetta Di drifta anche Quella Con la Toyota Mi piace ST qualcosa Mi piace Che capolavoro ragazzi Questa macchina Che capolavoro Vediamo da dentro Oh raga Oh raga Oh Marco Drums Games Su muro Dipinto Del Pasqua Del 17 Aprile 2022 17 oggi Noi raga Non è che faccio Figure Diciamo che è il 17 Non c'era praticamente Attaccato nulla Cambio da racing Roll bar Interno Quinta marcia E si guida Con una mano Raga Su cordolo Mamma che bella Che bella auto Va bene ragazzi Dai andiamo a comprare Un'altra macchina Andiamo a comprarci Un'altra Bella ferrarina Cosa ne dite Ci comprava una ferrarina O Vediamo un po' Qualcosa col biglietto Vediamo Vediamo Ciao amici Twitch Benvenuti ragazzi Buona Pasqua a tutti Allora A livello ferrarine La borghini Mi mancava una Mi sembra Una lambo Mi sembra Mi manca questa E questa Contando che la gr3 Ce l'ho già Perché me l'hanno data Nel coso Anche la gr4 Ho 5 milioni Dai compriamo Questa gr3 E basta Ok Così è mia Punto e basta 4-5 Ciao zone boy Grandissimo Buona giornata Buona giornata Amico mio Amore mio E buon Pasqua a tutti Stavo dicendo Buon Natale Ragazzi Quindi siamo messi Abbastanza male Andiamo a trovare Subito una livreina Di quelle carina Carina Ina Ina Così la differenzio Da quell'altra Che mi hanno dato In prestito Perché ho fatto Il campionato Manufacturing Vediamo un attimo C'è qualcosa Che mi piace Vediamo Questa della Marlboro Non è niente male Sto cercando Di provare A fare Le mie Livre Ragazzi Ma non riesco A importare Il logo Quindi Questa di Valentino Non è niente male Andiamo un secondo Super Mario Questa non è male Il Super Mario Questa della L'Italia Un po' I vecchi Da Rally Da Rally Di HL Fiat Questa è Alla Valentino Fatemi vedere Perché non Vorrei anche Elogiare il mitico Valentino Rossi Che si è ritirato Dalle competizioni Vediamo un attimo 12.000 12.000 Sì Cazzi Dai dai Va bene Va bene Ci rispendo volentieri Ok Andiamo a provarla Ciao Oli Vieni 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 qua Dicino papà Vieni Vieni Ecco qui Oli Ragazzi Come sei Come sei bella Oli Dai Sei qui vicino papà Saluto a tutti amore Come sei bella Tata Buona Pasqua Anche da Oli Da Olivia Come sei bella Piccola Vuoi fare la nana Eh Stai qui a vedere La macchinina Con papà Vieni dai Allora Imitatore Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Eh Il turbetto Va preso Il turbetto Non c'era Perché comunque Ragazzi Sembra Sembra nulla Ma anche Andar dentro qui A comprare Tanta roba Eh Allora Questa è la 458 GR3 Sharder Eh Andiamo a provare Subito Su Monza Andiamo a provarla Ok Vai 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 amici miei 458 Italia GT3 Di Valentino Rossi Eh Ciao Lina Cina Ciao Lina Ciao Lina Ciao Lina Mitica Buon pomeriggio E buona Pasqua Eh Grandissima Oh Oh La prima variante Di Monza È sempre un po' Un disastro Eh Ciao Lina Grandissima Buona Pasqua Benvenuta Benvenuto Sto comprando Macchine GR3 Per poter Poi trovare Una macchina Figa Da usare Online Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Buona Pasqua Zanaboy Grandissimo E' vero Buona Pasqua Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Vi aspetto Per le mega live Mi è andata un po' Di traversino Ho preso Ho preso la livrea Di Valentino Rossi Per elogiarlo Su questa 458 Perché ne ho un'altra Anche Grazie a te Buona Pasqua Oh scusa scusa Eh Lina Io vi leggo le prime Quattro Quattro lettere Oh se non sei iscritto Iscriviti al canale Grandissimo Ho letto Lina Scusami ma Ho interpretato Che eri Una ragazza Però grandissimo ragazzo Grande 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 che viene a vedere Marco Drums Games A Pasqua Grandissimo Andiamo con questa Vincere con questa Macchina di Valentino Grandissimo Grazie 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 Lina Allora ti chiamo Dai Ti chiamo con il nome completo Così Non sbaglio E comunque ragazzi Se entrate Nelle mie Secondo me C'è la NSX Che mi ha brancato dentro Poi adesso Voglio vedere il replay Diciamo che Questi bot qui Non è che aiutano tanto Sono abbastanza Dei caroni Sono abbastanza Come dei Come quando si va online Quelli che ti vengono addosso Apposta E si mettono a ridere Eh ma dai Ma è possibile Che mi vengono addosso Allora Non è tanto Un gran che sta Ferrarino Ma fa che roba Oh Devo provare a vedere Se è tosta Oppure no Così andiamo a giocare Con Sharder Che ha già fatto La lobby Sharder Ci sei ancora? Sto provando La 458 E' un po' Di controsterzo Però Non ci sei? Come hai fatto A scrivere Allora Sharder Ci sei? No Bellissimo Grande Allora la 458 Amico mio Allora la Ferrari Sui cordoli Non va d'accordo Vedi Guarda Guarda Come si Mi si imbarca Non riesco neanche A dargli di gas Oh Vabbè raga Fate passare Mi venite anche addosso No Ciao amici di Twitch Ben arrivati ragazzi Scrivetevi in chat Così vi saluto In live Vi saluto subito I bot Li pago per buttarli fuori Guarda che ti buco le gomme Stai calmo Quando facciamo l'online Ti buco le gomme Allora non è male Però la New Beetle Sinceramente Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Buona Pasqua Buona Domenica Pomeriggio Sto correndo con tre botta Difficile E vi dico la verità Che sono abbastanza Tipo online Tipo un po' Capricciosi E' arrivata anche La mitica Olli Ciao amici di Twitch Ben arrivati ragazzi Buona Pasqua a tutti Ma no che è capricciosa Bisogna essere delicatino Ah sì sì Uguali 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 Allora Comunque Fatto sta Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Benvenuti in sta mega live Adesso andiamo online Ecco l'amico Shard Ah Ja Ai 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 Quando ti distrae Un attimo Per salutare gli amici Di Twitch E la 458 Non ti perdona L'errore ai 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 caramba potevo essere sul podio amici miei invece sono veramente veramente sconfitto traumaticamente sconfitto allora qui il mio beatle potevo dar giù a pieno adesso Shardel faccio vedere il replay e poi vengo da te ecco noi ci facciamo una mezz'oretta, tre quarti d'ora insieme facciamo un po' di online ragazzi facciamo un po' di online se volete giocare con noi basta che vi iscrivete al mio canale Twitch e possiamo scambiarci l'idea e giocare insieme come sto facendo con l'amico Shardel vediamo un attimo perché comunque questa ligrea Valentino vale 46 VR46 vale la pena vale la pena vederla bellissima anche il ragazzo con la fatta complimenti mi piace troppo poi anche un omaggio al mitico pilota nostro italiano che si è ha lasciato il campionato si è dato in pensione anche se non ci credo perché si può fare altro a parte già con l'academy di Vale 46 di VR46 ha già creato dei fenomeni incredibili bella eh bellissima la ligrea mi piace veramente un botto si è quella verità bravissimo ragazzo si se la vedete e vi piace ragazzi andate a trovarla Ferrari 458 GD3 la ligrea di Valentino Rossi per scaricarla questo 12.000 ma sinceramente vale la pena wow ragazzi io andavo sempre qui quando sono andato i 5 anni di fila a Monza che sta vicino a casa mia ho visto 4 anni di fila alla Superbike e un anno la Formula 1 quando ancora spaccava le orecchie un po' di anni fa un bel po' di anni fa quindi che figata me la ricordo benissimo l'odore di carburante le gomme che stridono mettersi lì dove ci sono i muretti sfrecciano le moto che piegavano giù quasi che che toccavano per terra incredibile anche le Formula 1 viaggiavano da favore però la Formula 1 c'avevi posto fisso nelle tribune quindi non si poteva andare in giro tanto troppo bordello invece la MotoGP la Superbike sono riuscito a girare tutto il tracciato perché si poteva andare dove volevi bastava trovare il posto facciamo il mio che bordello che bordello che fanno gli altri piloti ragazzi va bene dai ok allora Oli è venuta qua e mi ha fatto un casino col PC allora c'è qualche qualcuno di voi che vuole una macchina in particolare così andiamo a comprarla prima di andare online col mitico Sharder qualcuno che vuole vedere qualcosa che magari andiamo a vedere una macchina nuova da comprare e poi andiamo a correre vediamo se c'è qualche Ford GR3 questa qua one million one million quella non è niente male oh no ho sbagliato ragazzi ci sono un sacco di macchine comunque alla fine della fiera uno pensa che ce ne sono poche ma non è mica tanta vera la cosa la Toyota mi piaceva vediamo un attimo se riesco a recuperarla con la Toyota che mi piaceva no non credo che era questa questa ce l'ho ma questa ce l'ho la concept era questa era eh sì uh che bellina anche questa Toyota ah mi sa che era questa grigia che bella la compriamo ma sì un milione così che bella allora Charder provo questa e poi vengo online perché questa macchina qui la volevo comprare da un po' l'ho vista prima nella gara ok poi ci facciamo una mezz'oretta tre quarti d'ora insieme e ragazzi chiudiamo la live e ci vediamo stasera questa è da concessionario però scusate ma non so come è messa non so come tiene non so come va FT1BGT oh posso anche ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi posso farmela anche a difficile mi sa no non frena gomme altro va va messo per forza carboceramici però viaggio da panico allora Charder arrivo finito questa andiamo trial mountain tanto poi se devo fare qualcosa lo faccio dopo ooo Ciao amici di Twitch Ben arrivati, buona domenica e buona Pasqua Sto provando questa Toyota Ve la faccio vedere da fuori Bella tosta raga Con delle belle gomme Fredi carboceramici Mi sa che spacca Possiamo farcela anche da fuori Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Ciao amici Toyota Toyota Bella lì Bella lì Andiamo a giocare con Sharder Sharder creo il party Così puoi venire dentro a parlare o rimani fuori Dimmi tu Vabbè io il party lo creo lo stesso Tanto almeno un tre quarti d'ora Lo facciamo insieme Ok amici di Twitch Creato adesso Bella 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 raga Assomiglia un po' a Che non è stata copiata Ma assomiglia un po' a Fai Dragon Trail Così cambiamo perché ha fatto tutto il giorno Con mitica Monza Ragazzi poi magari poi si annoia Un po' delle nostre fatute Dragon Trail E la facciamo con la GR4 Poi per la storia dei pipì Non mettere niente Magari metti macchine uguali Senza assetto Senza roba Così voglio provare quelle che ho comprato oggi Stasera andiamo a comprare le altre auto Ragazzi Facciamo un qualche farming insieme E tra l'altro fra pochissimo Posterò anche la seconda pista Tokyo Expressway Con tutto il settaggio per la Tomahawk Per cambiare le marce per poterla fare E quindi Appena finisco la live Alle 6 6.15 6.20 Fatto che per le 6.30 C'è già il video Online Sul mio canale di Marco Drans Games Comunque sentate subito su YouTube C'è l'altro della Sardegna Con l'altra Tomahawk Con un milioncino Poi fate 800.000 Ogni 25 minuti più o meno 22-25 minuti su Sardegna E un 15-20 su Expressway Ok? Tokyo Expressway Bella Bella, bella, bella Dai Andiamo dal micro shutter Stasera poi andiamo a comprare qualche altra macchina Così almeno ragazzi Facciamo qualcosa Questo microfono mi sta facendo un po' i capricci Un po' i capricci sta facendo il microfonino Ok Allora Multigiocatore, lobby Facciamo una mezz'oretta insieme online ragazzi Grande Schalber Eccolo Ciao Ciao amico mio Come stai? Tutto bene? Buona Pasqua Molto bene Buona Pasqua Grande Grande Allora Sto cercando la No In realtà sto verificando l'ambiente di rete in corso Quindi ancora non sto cercando la partita che hai fatto Però Adesso arrivo Oh Eccoci qua Stasera fa pure on Sì 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 Stasera verso le 9 sono on ancora Adesso Ho ritardato un po' il G-Charler Perché ho fatto il video per settare le marce Della Toma Su Expressway Tokyo Quindi adesso poi faccio una mezz'oretta qua con te E poi chiudo e vado a A montare il video Eh? Non stavo neanche a casa Ho visto le live Grande Grande Grandissimo Allora ascoltami Io ho visto La La Toyota FT1 VGA Che è una figata E poi anche la Beetle Ti dico la verità Mi ha stupito quasi Allora io non so che cosa è successo C'era una limitazione per qualcosa Che mi ha buttato fuori Della roba gialla Quindi facciamo un po' di giri E poi facciamo la gara Io sto provando la Beetle Tu l'avevi comprata la Beetle Allo Sport Ce l'avevo però Non ti piaceva? Non tanto Che mi trovava bene con la Porsche Con quella che mi hai fatto prendere? Sì Non me l'avevo fatto Tu l'hai presa adesso mi hai detto Grande Grande Quindi usi quella adesso? O usi sempre la Lambo? No la Lambo Cioè Sono mi sposto tutto I settaggi Eh? No Si può andare a tenerla Una senza Eh Ok ragazzi Stiamo collendo Con il grandissimo Charger Così Almeno Se volete giocare con noi Basta che vi iscrivete Il canale Twitch di Marco Drums Games E ci scambiamo lì Eh? Ok raga Quindi Nessun problema Possiamo farci delle belle giocate Allora io ti dico Che è là Adesso vediamo i tempi Perché magari poi È solo un'impressione Mi sto trovando veramente bene Con la Beetle Il canale è quello che fa E' un po' È quello che fa E' stato E' il canale Non è bene Il canale è molto più E' un po' hai detto su gt sport e l'altro infatti ho sento questa pavola allora è molto bella e dico la verità perché l'ho provata prima la porsche però c'è un qualcosa che non lo so la beetle riesco a dar più gas nelle curve anche io e io personalmente poi cioè l'abito è l'unica che a livello difficile sono riuscito a arrivare primo subito senza tanti ciao amici di twitch benvenuti ragazzi buona pasqua a tutti eh raga mi raccomando di iscrivervi al canale di marco drums games amici chiedi la porta mamma per piacere 1 e 41 eh credo se riesco io ho sbagliato in un paio di punti sinceramente ragazzi ciao amici di twitch benvenuti ragazzi buona pasqua e buona domenica a tutti stiamo correndo online con il mitico shard ragazzi se volete giocare con noi iscrivetevi al canale e lasciatemi un cento euro eh no un il vostro edizio da play lasciateli un euro una bella iscrizione al prime ragazzi un euro al giorno toglie il medico di torno perché praticamente riesco a comprare le magliette da fare il merchandising ragazzi eh tutti in giro questo natale questo questo periodo estivo eh al mare con le magliette di marco drums e i costumi anche vediamo se l'ho migliorato un attimo sì qualcosina ho rosicato un pelo ma niente di che cacchio ho fatto un po' troppo la curva stretta ciao amici di twitch benvenuti ragazzi alle marce strane sta beetle quindi non sono più abituato a non fare così che sai che io ti copio eh non è che ci ho attacco da corda dietro certo sono quasi copiato eh sono detto che io spetta il contro il muro ciao amici di twitch benvenuti ragazzi buona pasqua a tutti eh raga stiamo correndo col mitico sharder online con la mitica new beetle no in realtà non è il il mio beetle no in realtà non è il mio beetle no in realtà non è il mio betico sharder sta correndo col porcci eh ciao a tutti 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 mi piace sta new beetle ciao amici di twitch ben arrivati ragazzi buona pasqua a tutti amici mega carrozza ragazzi mega carrozza in realtà stiamo scaldando infatti vado bene dopo ve la farà una merda solita mia che vado a sbattere sul primo muro ma so già che è così dovresti conoscermi o mai e quando vado a giocare seriamente succede qualcosa che poi faccio un disastro vabbè poi ho imparato a giocare con le marce imparerò anche a non tamponare tutti ciao sol davvero mandaci al settaggio della force su whatsapp ok oh ragazzi se volete giocare con noi basta dirlo eh stiamo giocando ma c'è posto per tutti eh adesso io non me lo ricordo più se avete il gioco non l'avete o se ma se abbiamo dato il settaggio ce l'avrete più vabbè magari oggi non volete giocare perché è pasqua infatti che facciamo una mezz'oretta e poi basta ce la possiamo anche vederci stasera quando va a metto faccio da una volta sì fammi finire il giro perché sto facendo uno un giro uno più bello dell'altro così lo provi se va bene poi mi metto a a settarlo anch'io e se posso condividerlo ragazzi faccio un bel video eh mitico sol se mi dai l'ok che posso condividerlo faccio un bel video se invece l'hai dato solo a me come youtuber allora lo tengo per me oh grande grazie grazie ti manderò le carte per il copyright da firmare insieme a 10.000 euro perché ti pubblico il tuo settaggio ti immagini e poi gli arriva l'enciclopedia a caso cioè con l'inculato dietro ho fatto un tempone aspetta aspetta un attimo che te lo mando aspetta che mi fammi fare il giro che sto andando forte nooo com'è la storia che mi mandi raga qui è qui è il contrario siete voi che dovete sostenere lo youtuber ragazzi devo fare le magliette forza forza fate gli abbonamenti amici miei ah questa lo ho cannata ah che peccato aspetta che guardo whatsapp whatsapp hai detto ma non vedo niente amico mio ah sol cazzarola sole kevin ah si sol 98 tv è vero ragazzi seguite il canale anche di kevin sol 98 tv scusa kevin non mi ricordavo più che di tu ah proprio di questa grande kevin aspetta eh che sto vedendo il gruppo che ho fatto ieri ti sei accorto grande kevin mi ero già dimenticato che eri tu sono venuto anche a vederti nel tuo canale ragazzi seguite il mitico kevin su ciao bruschetta niente grigliata per voi oggi si si l'ho già fatta no abbiamo fatto il polpettone oggi domani faccio la grigliata infatti domani forse la live del pomeriggio salta allora aspetta eh ma com'è che ho fatto il gruppo ieri com'è che si chiamava allora amici vabbè te lo mando a te perchè non trovo cioè insomma ok ok allora kevin mi piace un botto sta macchina questa ci può fare in terza secondo me ragazzi eh anche a te è bello la diubito lo tiene di brutto serve solo un settaggio eh ragazzi qualcuno ha un settaggio da passarci per la new beetle per la beetle io l'ho sbagliata proprio è bello l'ho sbagliata grande se ne puoi ciao amici Twitch benvenuti ragazzi ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi stiamo corriendo online con il mitico Shader e buona Pasqua a tutti amici e amiche mie a tutti a tutti Grazie a tutti. 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 Buona Pasqua a tutti ragazzi e ragazze. Ok, allora adesso aspetta un secondo che arrivo. Ma non dovrebbe essere tutto sto gran chiesto tempo. No, beh, 18.000 esimi però, dai, non era male. Ah, via pure. Faccio vedere un po' la macchina da fuori. Grazie a tutti. Oh, oh, per fortuna è avviata perché non sono sul muro. Oh, speriamo che non parto in quadra, eh? C'è, anche quello vi capita. Io presento me la cosa che non andò dunque. Non lo so, non lo so, mi trovo bene su questo abito, ti dico la verità, però, vabbè, cerco di non unirti addosso così possiamo fare una gara leale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vabbè, vai, vai, porca miseria. Ma non ci credo, ma non ci credo. Non ci credo, ti giuro. La retro alleva la moto dalla macchia. Mamma mia. Non ci può ammettere che non ho la retro, cazzarola, se no sbaglio. Vedo che fai fatica a tenere la strada la tua. Qua c'è una bella potenza, eh. Ciao amici di Twitch, ben arrivati, ragazzi. Oh, mio Dio. Ok, mi sentito una... Sì, so proprio... Hai presente tipo un principiante che non ha mai fatto questa pista? Ecco, ero io. Ah, c'è il carry Dober? Entrai in parte, Kevin, perché non sono riuscito a leggerti, scusami ma. Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi, buona Pasqua a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, sto facendo di tutto per non prenderti dentro. Ciao amico. Buona Pasqua. Marco, tranzi era il momento giusto. Adesso vediamo se non vado dritto che becchio al muro. Oh, non dire queste cose. Ciao Kevin, ti si sente basso amico mio? Adesso si. Sui cellulare. Oh Kevin, mi piace troppo la mia Beetle. Perché dico il mio Beetle? È Beetle e basta. Mi piace davvero tanto, almeno per me è l'auto ideale. Ho trovato una problematica dalla sesta alla settima, la sesta non sale. Quindi bisogna trovare un assetto per la Beetle che metta a posto un po' le marce. Ma è stabile? Eh, amico mio. Qui no? Ma neanche nel sito quello che hai visto tu quello in tedesco? Ma che cosa serve a fare che cosa? Ah, è un assetto da Twitch? Sì, questo è un'altra. Sì. E dopo mi dici su cosa che lo faccio. Tanto adesso facciamo un'altra garetta perché questa qua mi ha esaltato come un matto proprio. E dopo lo stacco perché devo andare a montare il video. Tra l'altro che ho fatto prima sono riuscito a farlo bene, eh. Tra l'altro quello, sai, che abbiamo visto fa dei passaggi che non servono a nulla. Quindi il mio è molto più semplice. Sì. Molto più semplice, davvero. Cioè non è perché l'ho fatto io ma perché vedrai poi quando te lo faccio vedere vedrai che è più semplice. Il settaggio delle marce ci ho messo tipo tre minuti. E' dura di più che faccio vedere che faccio la gara che l'ha fatta completa, no? Perché ho detto vabbè faccio anche vedere gli amici che faccio la gara proprio, no? Come si fa a fare la gara intera. E che poi prendo gli 825.000. Ci ho messo più tempo di quello che fa tutto il resto. Di comprare la macchina, far vedere cosa compro. Bello, bello, mi piace. Ciao amici di Twitch. Ma ti ho detto, ma a parte che sono andato a sbattere il primo giro sul muro perché gli ero veramente a culo, non voglio andargli addosso. E se no sai di solito io ti tocco dentro e invece sono stato proprio pulito. Può confermarlo anche il sharder stavolta. E c'ho anche le immagini quindi non può dire bugie. Non può dire che gli ha bucato le gomme. E' staggiatta, ma che sta raggiunto? Eh ma, secondo me è la cosa, eh. Perché, vabbè, tu sei bravo, shard. Secondo me è la Mercedes, la BMW e la Porsche che non è. Vabbè, che la mia mi ha manca pure il tuo sbattore, quello che hai detto, che lo c'è per... Vabbè, dai, allora. Beh, io la Beetle l'ho comprata e lo sta usando così com'era, eh. Cioè, ti dico... No, ho comprato le gomme. La Beetle è la più veloce di normale di queste. Sì, del Porsche. Ah, vabbè, ti dà ne vai. Eh, io sto dietro. C'è vato una palantra. Oh, una palantra non ho fatto. Sai che io non lo faccio mai, posso risultare oggi? Sì, non lo so, sono arrivato primo. Grande, tra... Vedi, io volevo mettere la mia immagine del logo, no, sharder, su il... Anche sulla tuta, invece di con la pizza, con le cose lì, no? Volevo proprio mettere la mia immagine. Quindi se riesci a importarmelo in SVG, su, sul... Sì, che era lo sport, riuscivo. Eh, se tu riesci a farlo e metterlo già nella livrea della macchina, per dire, la metti sul cofano, due sulle fiancate, eh. Oppure me lo... mi passi il file e... Perché il problema, sai che cos'è? Quando si va, ehm... A spostarlo tramite, eh, Whatsapp, gli SVG e i PDF non me li fa vedere. Ah, ok, grazie Kevin. Questo era il gruppo. Allora. Eh, devo uscire per cambiare tracciato, mi sapevo. Sì, dai, cambiamo tracciato perché sennò poi gli amici si stancano. Cosa facciamo, cosa facciamo? Dai, ne facciamo un altro, poi stacco. Cosa facciamo di tracciato? Allora, Nürburgring è l'autore di cojones, eh. Ciao, Vittany Boy, grandissimo! Possiamo fare qualcosa che non abbiamo mai fatto? Ti va? Tipo, ma se ne ricordi francesi o lavora del genere? Sardegna. Dai, Sardegna. Ci sto. Ci sto. Ho formato talmente tanto Sardegna che me la ricordo a memoria. L'ultima curva è quella tosta, però, eh. C'è proprio l'ultima curva che è tosta, tosta, tosterella. Tosta, 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 tosterella. Io vado ancora con la bitola, eh. Questa volta voglio provare. Se ne metto l'assetto che... Questo assetto qua che ti ho passato? Voglio vedere con tutti i costi se va bene la differenza. Fai la partita Tanto puoi farlo anche da dentro l'assetto oppure no Sì sì Hai detto Sandegna e hai messo un altro Grande Sta incominciando a A diventare come me Sbiamo random Sì È una perdita No Non puoi usare la chat vocale Perché Sharder causa un errore Ma hai detto qualcosa per caso? Kevin? Sharder? Ah no ci sei Eh è crashato mi ha detto Sì sì c'è c'è Questo è questo processo Dai ogni tanto Spero di aver cannato Kevin tu non ci sei Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Buona Pasqua a tutti amici miei Stiamo facendo un'altra mega gara Con il beatico Sharder Ok la pista c'è Sardegnozza No non ci sono La facciamo C'è domani Domanissimo c'è Domani ci sei però eh Domani è festa Sì sì Eh domani ci possiamo fare una mega gara ragazzi eh Tu ci sei Sharder? O lavori? No non ci sono Ok Grande grande Dai domani ci facciamo una mega garozza Allora io Ciao ragazzi Benvenuti Benvenuti Buona Domenica A tutti Buona Pasqua A tutti Spero che avete mangiato Per bene Ma questa che pista è? Ah sì 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 È vero è vero Questa è Sardegna È solo che me ne sono talmente abituato a farlo con la Toma Che con un'altra macchina mi sembra strano Mi sembra un'altra pista Ciao amici di Twitch Benvenuti raga Benvenuti raga Benvenuti raga Devo riabituarmi a A fare sta gara Non con la Toma Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Iscrivetevi al canale eh amici Madonna La Toma è È incollata Questa qui la faccio la manetta io Uh Troppo Sto comendo con la Volkswagen Beetle raga eh GR3 Questa è quella che bisogna frenare di brutto raga Seconda Aspetta seconda Guarda seconda dai Dai partiamo col giro veloce ragazzi Dai 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 Scrivetemi in live così vi saluto amici Uh No Come sbagliare completamente il giro raga Come sbagliare Che capita che l'hai visto Kevin Mamma mia Impredibile Vabbè Sì Favamo il giro S связzi Ci e Comunque Kevin riesco a far tutto con le marce Adesso rispetto a prima che non riuscivo proprio Ti ricordi? Arrivano le marce ancora Ti ricordi dei charder agli inizi Che era tutto col manuale? Ho imparato, ho fatto bravo E' un passaggio Mica da ridere Passare alle marce Manuali Meno male Bruschetta Hai visto ragazzo? Eh, però adesso è stato bravo Grazie, grazie, grazie Bruschetta Mitico, mitico Eh, perché sembrano stupidate, eh Però, oh Eh Poi devo anche parlare, leggervi Insomma, non è facile tutto la barata Mi piace sta macchina Ciao amici, Twitch, benvenuti ragazzi Buona Eh sì Sì, sì, sì Vado molto più forte Riesco anche a frenare A frenare molto di più Decido io quando Quando usare anche il freno motore Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Buona domenica E soprattutto buona Pasqua, amici, eh Grandissimi Dai, iscrivetevi al canale di Marco Trans Fatemi questo regalo di Pasqua, ragazzi Ho fatto dei video fighissimi Anche su YouTube, eh Se vi va Di vederli Ho fatto un video dell'uovo di Pasqua E ho aperto l'uovo di Pasqua Il mio figlio Bellissimo Bellissimo video Scuschetta mi piace tantissimo Questa Beetle Ragazzi Io vi aspetto anche stasera, eh Mega live di Gran Turismo Stasera Dopo le 9 Se per caso di tardi un pelino Ragazzi Perché stiamo a mangiare No dai Prima è ridicolo Eh poi se ne stesiamo Eh sì Eh sì Ah 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 Grazie a tutti E' troppo bello questo Gran Turismo 7 ragazzi Sì davvero davvero Sai che io ho brancato dentro un muretto eh? Ho sentito un po' il rumore strano Ho sentito un po' il rumore strano Ciao amici di Twitch Buona domenica Buona Pasqua amici miei Ciao amici Ciao amici Ciao amici Ciao amici Ciao amici Ciao amici Grazie a tutti. 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 Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Io faccio questo, poi se vuoi partiamo. Dai, è andato, vabbè. Quando finisci tu, vedi tu, fai partire, mi è andato. Vado in quarta di tutta la pista, facciamo una scompagnata. In quarta, in quarta. Aspetta che metto giusto, perché poi dopo... Allora, in compenso, questa pista qui, che è un po' su e giù, penso, che ha i dislivelli, faccio fatica da dentro a vedere la pista. Tu riesci? No, la cosa è incredibile, non riesco a vedere i limiti. Aspetta che provo anche la copra, dai. Oh, non mettermi la retro, eh. Gioco buggato. Ok. Non mi ha messo la rete. La rete. Oh, ti ho visto molto, molto easy dentro, eh. Easy d'oro. E infatti t'ho visto dentro bello massiccio, ti ho visto, eh. Mi hai fatto venire un po' paura. Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi. Buona Pasqua e Domenica a tutti, eh. Stasera ci sarà un'altra Mega Live. Ma normalmente c'è sempre pieno di gente qui da me, mia moglie, mio figlio, oggi, ma loro praticamente abbandonato, quindi... Stasera ci sarà un po' paura. Eh, viaggia, eh. Porca miseria, vabbè, la sua stacca è che ho sbagliato. Ciao amici di Twitch, benvenuti. È una bestia, eh. Sì. Anch'io uguale, oh. Quando qualcuno canna davanti, faccio la stessa cosa che fa quello davanti. Non è che dico, dai, che approfitto, no? Che lo passo. Ciao Jack! Grandissimo! Oh, mi raccomando, iscriviti al canale, amico mio! Grandissimo! Buona Pasqua e buona Domenica! Oggi mi hanno abbandonato tutti, dopo che ho fatto una Mega... Mia moglie ha fatto una Mega Salsicciata, lì come si chiama? No, è... Il Grotolo. Buono, buonissimo. Domani una bella grigliata. E passiamo bene queste feste, ragazzi, insieme, eh. Stasera anche un'amiga live. Grande Jack! Sto giocando online, eh. Con voi, ragazzi. Se volete giocare con me, iscrivetevi al canale e poi ci possiamo accordare per quando vado in live con voi di poter giocare anche insieme, eh. Oppure venite a trovarmi, eh. Scrivete così vi posso salutare. Oggi ho messo, ehm... Kevin, ho messo le nuove emote, per chi si fa l'abbonamento col Prime. Eh sì, ho visto. L'hai visto? Ah, si vedono proprio. E ho messo anche un video di presentazione. Allora, ho accannato talmente tanto che il Chader è arrivato, eh. Il mio problema è stare davanti che non riesco a rendermi conto se vado bene o se vado di Minchium. Ecco, a Minchium vado. Eccala là. E approfitta subito, Chader. Oh, wow. Cosa c'è che non tiene più? Sono io che mi sono sconcentrato di brutto? Eccola. Eccola. Grazie a tutti. 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 Vi ringrazio. Grazie a tutti. Ciao.